Cala io, manda su! Ah! Gli ha detto lo scopo di rottura dei coglioni, ma pensavo proprio alla lettera! Guarda che ti appoggi giusto due grepette per farlo di poterremoto e basta! Perfetto no? Ecco no? Basta? Oh! Ecco qua, come? Perché ti prendi un corpo in chi casa mi hai lavato? Eh, vabbè, facciamo domanda, vabbè! E smartella tutto il giorno... Inese! Eh? Ma quando ti ho detto fammi le maiole che te lo bagno a fondo vuoi smartellarle no? Che fai le cacce per pulire? Eh eh! Che te pia un corpo in cemento armato, almeno se passa tutto il modo di armare in piedi! Ma guarda io che l'ho caperta eh! Eh? Che te pia un corpo! Con fronte datelo un martello! Oh oh! Nulla può fermare i miei allenamenti! E hop! Oh ecco, tranne che la rinata perché in quel caso se gliela devi fare l'angolo! Eh eh! Preno! Oh dai! Ah! Aiuto! Oh! Oh ti metti la cintura? Dai un po' sta fai stupido là! Eh? Dai che la comitata tu lo botto stanotte non gli ho dormito niente là! Eh? Mettete gli straccali! Ma che straccali! Dagliela! Brighton! Oh nè! Brighton vieni qua! Fai la cuccia! Vengo là ma io non mi sento bene per niente però! Fai la cuccia! Oh la cuccia ma ecco quello che faccio! Che fai? Brighton! Brighton! Non ti ordino di smetterla! Eh? Perché tu mi senti i dolori che caglio io! Ah! Oh! 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 Un scoccio tutto qua! Uno e... Oh! Ahio! Luigi! Ahio tu ditto! Vammi via per carità là! Uuuuh Marco mio sei taglia fa parellare come la! Si eh! Aiuto! Eh? Ahia però! Che che è? Come che! Mi gli hanno detto che la prima volta la faceva male ma io non pensavo tutto questo! Eh! Ahia! Si taglia lungo! Sì io vado via là! No! Mango singola mi sa meglio! No non compro niente signore un po' compri gli chi cosa! Senti che caglicia qui in Terni! Eh! con l'aria condizionata, stiepita. Ardelaria, non è vero? Pare che ardelaria, guarda. Signore, è lei che ha chiamato il 113 per dire quel maniaco? Sì, sì. Prima, no? Ma se mi sei presentato questo qui davanti, mi fa... se mi fai toccare, ti regalo una bottiglia di vino. Ecco, me lo state a scrivere? Era uno di questi stranieri qui, hai capito che paura? Certo. Ma dove è andato? L'ha visto? Già poi l'ha fatto io un stradone! Ma la bottiglia, signora! Eh eh eh, la bottiglia! La fai facile tu! Se ci leghi tu la bottiglia la faccio anche a te, eh!